Un anno fa, proprio durante la serata del nostro concerto di gara, un nostro carissimo amico, membro della banda per molti anni, un socio onorario, prese il volo sulle nostre note e ci lasciamo. Vogliamo dedicare il prossimo grano, Spiritual Moments di This Strife, a Luigi Meneghelli. Prego maestro. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.